E ciao a tutti amici, lo vedete il logo alle mie spalle, vi ricorda qualcosa? Oggi sono andato a curiosare nel centro formazione della Blackmagic e ho trovato questo. Editi avanzato con Da Vinci Resolve 16, ma questa guida deve ancora uscire e la stanno facendo. E allora cosa ho pensato? Ma perché non andiamo avanti con questo Da Vinci? Perché non impariamo di più? Quindi ho trovato la guida di Da Vinci Resolve 15 e possiamo andare a imparare l'editing avanzato e fare l'esame quando sarà uscita la guida 16 perché ci basterà integrare solo le poche cose in più e potremo fare l'esame, potremo già farlo per il 15, tanto Daria mi ha detto che ha lo stesso valore e poi potremo comunque integrare con le nuove pagine inserite. Ma di cosa si parla su questa guida? È stupenda perché è divertentissima. Beh, si parte costruendo un trailer che abbiamo già fatto dell'aereo, ma non preoccupatevi perché si impareranno comunque cose nuove. Ma le cose che seguono sono incredibili. Impareremo a gestire i giornalieri e preparare l'editing ancora in fase di ripresa e poi con delle vere riprese di scene di dialogo di una serie impareremo a tagliare e a inserire correttamente queste immagini, a gestire le istanze e le subclip, editare con continuità e andare oltre al taglionetto utilizzando i JLCAT e in più vedremo che cos'è il Take Selector. Con il materiale di un'intervista invece vedremo cos'è il Radio Edit, cioè prepareremo l'audio base dell'intervista per poi passare al Painting e l'inserimento dei B-Roll. Ma vedremo assieme cosa sono tutte queste cose e come si realizzano. E cosa c'è più bello dei pirati? Una scena di azione girata? Andremo a imparare a dare continuità, velocità, usare le immagini rallentate per creare enfasi e suspense. In questo mio corso impareremo anche l'editing multicamera e la sincronizzazione di tutti gli audio e file e andremo a editare un piccolo video musicale per poi andare a creare una presentazione con delle composizioni multiple con delle scene di un rinoceronte ma veramente bello sia dal punto di vista grafico che è proprio delle immagini, impareremo veramente tante cose e non mancheranno gli effetti con gli alieni ovviamente li realizzeremo in Fusion e nella pagina Color e qui ci servirà anche Tracking, il Key e il Compositing. Beh, cosa dire? Questa è una proposta che potrà seguire come al solito l'esame della Blackmagic per ottenere il certificato del corso di editing avanzato. Se vi piace questa mia idea scrivete che volete aderire sotto la descrizione del video ovviamente è tutto gratuito come al solito mi offrirete un caffè scrivetemelo, aspetto i vostri commenti per pensare di iniziare io ho già scaricato il materiale l'ho già visionato e sono andato a leggermi anche tutta la guida PDF che c'è di accompagnamento in inglese a me è piaciuto molto perché ci arricchisce molto su cose di cui non sapevamo forse nemmeno l'esistenza per cui vi ringrazio subito se mi evitate inserendo qui se volete partecipare grazie e alla prossima ciao 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 ciao